Buongiorno dalla TGR Sicilia in apertura. Il blitz antimafia del ROS dei Carabinieri in quattro province dell'isola. 22 i fermati tra esponenti di Cosa Nostra e della Stida. L'unico irreperibile Matteo Messina Denaro. Gli incontri tra boss si sarebbero tenuti nello studio di una avvocatessa. Coinvolti anche esponenti delle forze dell'ordine. Tra gli arrestati anche lo stidaro Angelo Gallea, uno dei mandanti dell'omicidio del giudice Rosario Livatino che stava riorganizzando la sua cosca. I particolari con Simona Licandro. Cosa Nostra è sempre presente e ancora unita, a dispetto di alcune divisioni nel territorio. Questo è il messaggio delle ore di intercettazioni raccolte dal ROS dei Carabinieri che hanno fermato 22 persone intenzionate a dare nuovo potere alla mafia grigentina e non solo. Devo farla crescere questa cosa, è una soddisfazione che io mi devo prendere. La numero 23 Matteo Messina Denaro, il super latitante, capace di gestire rapporti anche con i clan agrigentini che a loro volta mantenevano contatti con le cosche di New York. Capo della provincia trapanese di Cosa Nostra che ha saldamente nelle mani e che partecipa ad alcuni processi decisionali interagendo con questa componente agrigentina oggetto di indagini. Tra i fermati è anche l'ostidario Antonio Gallea, mandante dell'omicidio Livatino, in semilibertà dal 2015. Secondo la DDA di Palermo si era subito ripreso il potere. I suoi fedelissimi stavano pianificando nuovi affari, richiedendo il 3% agli intermediari del mercato dell'uva da vino e anche due omicidi. Cosa Nostra poteva contare anche su un'avvocatessa di Canicattì, Angela Porcello. Nel suo studio avrebbe organizzato summit di mafia e fatto uscire dal carcere i messaggi dei padrini rinchiusi al 41 bis. Strumentalizzando il suo ruolo di difensore consentiva anche un rapporto indiretto tra detenuti comunque recrusi nel regime del 41 bis, quindi nel regime del carcere d'Uro.